Ciao a tutti, io sono il D-Lando Gofilo, oggi doppia recensione, infatti l'album mensile numero 110 Aracne e l'album mensile numero 111 La Profezia sono in realtà un'unica storia divisa in due parti. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle tre copertine. La prima è questa di Corrado Roy, creata per l'occasione di questa grande ristampa numero 37, dove possiamo trovare questi ragni assassini veramente disegnati in maniera eccezionale. Guardate le texture, sembrano proprio pelosi, putridi, sembrano proprio brutti e cattivi, insomma fa abbastanza senso questa copertina, è disegnata veramente molto bene. Anche qui l'eclissi è stata rappresentata molto bene, Dylan anche lui a sua volta, insomma, nulla da dire in termini negativi, una copertina veramente azzeccata. La seconda che andremo a vedere è quella dell'album mensile numero 110, devo dire che anche Angelo Stanno si comporta bene in questa occasione, forse tende a semplificare un po' troppo lo sfondo in questo disegno. Tutto sommato non abbiamo quell'elaborazione grandissima in questa parte, mentre qui dove c'è il ragno, questa signora e questa culla, i dettagli ci sono abbastanza. Il naso di Dylan è un po' troppo spiovente, però tutto sommato l'espressione incisa sul suo volto è veramente ottima, va a presentare bene le emozioni che potremmo trovare in una vignetta nell'album mensile numero 110. Poi andiamo a vedere l'altra copertina invece, quella del 111, disegnata anche lei molto molto bene. Vedete qui c'è il cattivone di turno, un re di una stirpa ormai quasi, diciamo, estinta. Qui ci sarà il maniaco pazzo, solito facente parte di una setta dove tutti sono folli. E qui Dylan ha una faccia un po' da, diciamo, fumetto anni 50, non è che mi piace troppo. Sembra il mascellone di Superman, ecco. Anche qui il petto è stato disegnato abbastanza male. Dylan sembra un pochino tozzo in questo disegno, però tutto sommato anche qui viene presentato abbastanza bene. viene presentato abbastanza bene una situazione che potremmo trovare all'interno dell'album mensile numero 111. Ma di che cosa parla questa avventura? Magari avrete potuto intuire qualcosa da questi accenni, ma ora ve la spiego nel dettaglio. Dylan viene chiamato per ritrovare uno scienziato scomparso in un paese del Galles e viene assunto dalla figlia, diciamo. Però tutto questo è una scusa per progredire in un rito veramente molto bizzarro. C'è la stirpe dei ragni che deve avere un nuovo figlio, una stirpe di ragni e uomini che si sono fusi insieme, che sta per, insomma, estinguersi. Allora c'è bisogno di un donatore per avere un nuovo figlio, un nuovo discendente. Questo donatore sarà, purtroppo, Dylan. Diciamo che nelle fasi iniziali l'avventura viene spiegata molto bene, la trama di fondo è molto solida. Ho notato solamente alcuni inghippi nelle fasi centrali che sono a cavallo fra la fine del primo albo e l'inizio del secondo albo. In queste fasi centrali ci sono degli avvenimenti un pochino incongruenti fra di loro. Ad alcune domande vengono date delle risposte sul finale di questa avventura, ma ad altre non viene dato alcun tipo di risposta. Appunto ci sono alcuni dettagli non ben, diciamo, spiegati. Graucio che eccezionalmente sarà un personaggio portante, protagonista, nella seconda parte dell'avventura. Per seconda parte dell'avventura intendo l'album in Sile 111, quindi il seguito, la seconda e ultima parte. Infatti sarà proprio Graucio a risolvere il caso e ad aiutare Dylan a dargli una mano davvero sensazionale, oltre a, diciamo, offrire al lettore la sua spiccante vena comica, quindi molto ben caratterizzato. Quindi Graucio ha un, diciamo, un, come si dice, un ruolo davvero di rilievo in questa avventura. Forse è una delle avventure più, insomma, marcate da questo punto di vista, dove Graucio è davvero protagonista e segue davvero Dylan nel corso della sua indagine. L'atmosfera in questa storia è abbastanza tetra, abbastanza horror. Tutto ben ricreato dalla sceneggiatura di Manfredi e disegni di Corrado Roy. Infatti, nelle prime fasi dell'avventura, dove ci vengono presentati questi ibridi fra ragni e esseri umani, vengono presentati in maniera davvero agghiacciante. Adesso vado a prendervi forse una delle primissime vignette, dove stavo quasi per avere il volta stomaco, meno male che io di solito alla sera mangio presto, perché sennò avrei tirato su tutto. Guardate, questo qua è il Signore dei Ragni, lo chiameremo così per semplificare, così ci capiamo al volo. Guardate qui da dove spuntano fuori ragni. Ok, cambio pagina, per me viene volta stomaco, scusate. E tutto questo per dire che la sceneggiatura è veramente brillante e offre dei toni horror davvero di rilievo e molto molto buoni. Proseguendo nell'avventura avremo anche delle fasi più dinamiche, forse un pochino tendenti al surrealismo anche per un fumetto. Ad esempio, quando avremo dei ragni giganti che tentano di rapire Dylan, potrebbe starci perché comunque in un film horror una situazione del genere potrebbe avvenire, ma tende al surrealismo. Trovarsi di fronte a un ragno gigante che tenta di rapirti e rimanere pressoché lucido nelle tue azioni non mi sembra una scelta plausibile da parte di Manfredi presentare un panorama del genere. Quindi Dylan anche quando viene messo sotto tocchio rimane sempre fin troppo lucido. Un'altra persona qualsiasi sarebbe non impazzita ma andata almeno un pochino nel panico. Dylan invece non va più di tanto nel panico. Vedete qui quando nella stanza si forma questo ragno gigante e tenta di rapire Dylan, vedete la ragazza urla come una pazza alla nuova cliente di Dylan, mentre lui rimane molto freddo, anzi con tutta calma, si mette la giacca, prende la pistola, dopodiché gli spaga il ragno. Vedete, però tutto con un po' troppa calma. Quindi alcune volte i comportamenti di Dylan sono alquanto strani e bizzarri. Nulla di trascendentale. Questo fatto non va ad influenzare negativamente il voto finale dell'avventura che rimane comunque un otto. Il finale dell'avventura è un pochino strano perché anche qui quando Dylan... Adesso senza spoilerarvi nulla, vi dico solamente a grandi linee per farmi capire. Quando Dylan e Grauce si trovano nei casini più totali avremo dei personaggi che spundono da nulla che li aiutano, ma anche loro, insomma, ti trovi davanti un'orda di ragni giganti e vanno lì tranquillamente ad ammazzarli con forche, con coltelli, come se fossero ragni miniatura. Insomma, non c'è quel grande... Manca un pochino di verità in questo album. Un pochino di situazioni verosimili mancano un pochino all'appello. I disegni di Corrado Roy sono davvero ottimi perché riescono a donare la giusta enfasi ad ogni vignetta. Abbiamo la giusta, diciamo, ombreggiatura in ogni situazione. I giochi di luce sono stati proposti sempre e comunque bene, tenendo conto che l'80-90% delle situazioni di luce vedranno degli spazi compresi fra grotte interne con luce che filtra dall'esterno. Insomma, tutto è stato rappresentato molto bene. Non c'è stata alcuna confusione da questo punto di vista. Le ragni sono state rappresentate molto bene, molto vicili, molto malleabili. E poi abbiamo, appunto, come vi dicevo, sempre le lanterne perché ci sono sempre degli spazi bui perché i ragni, logicamente, si annidano nelle caverne molto scure. Quindi la luce non ha nessun intrallazzo. Mentre nella rappresentazione dei volte abbiamo un'ottima incisione delle emozioni sui volte dei personaggi. Dylan presenta alla perfezione il profilo di Rupert Everett. Come profilo intendo il suo volto in generale davvero molto, molto verosimile a quello di Rupert Everett, molto fedele. Alcune situazioni quasi splatter sono state presentate bene. Insomma, disegni di Corrado Roy non c'è bisogno di stare qui ad analizzarli più di tanto perché sfiorano la perfezione come quasi in ogni occasione. Da premiare lo stomaco di ferro di Corrado Roy che è riuscito a disegnare delle situazioni veramente da volta stomaco senza, insomma, dare di stomaco. Adesso mi spiego meglio. Come all'inizio, quando vi ho fatto vedere questo signore qua dei ragni, io non sarei mai riuscito a, diciamo, a disegnare tutto ciò perché mi veniva da vomitare. Se Manfredi mi avesse detto di seguire la sua sceneggiatura disegnando una vignetta del genere io non ce l'avrei mai fatta. Invece Corrado Roy c'ha lo stomaco di ferro, riesce a disegnare questo e altro. D'altro, Dylan D'Or è un fumetto horror ed è bello, diciamo, assistere anche a questi tagli di sceneggiatura più che azzeccati. Tutto sommato un'avventura molto buona, anche dei tratti, diciamo, vicino al genere giallo perché ci sarà anche un minimo di indagini da parte di Dylan, ma tutto sommato rimane nel complesso una classica storia alla Dylan Dog dove si parla di sette misteriose, non necessariamente religiose, ma molto, molto misteriose. E siccome questa storia è stata presentata in bene 200 pagine c'è tutto il tempo di scoprirla e Manfredi ha avuto il modo di presentarla al meglio dando il giusto spazio ai dialoghi, il giusto spazio alle scene d'azione. Insomma, la storia è ben scandita ed è ben leggibile. Per il momento è tutto. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta condividila dove vuoi, iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofilo importantissimo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo del narratore dell'incubo.